C'è una novità che riguarda il centro storico di Ardesio che partirà da lunedì 16 ottobre. Viene introdotta la ZTL per una determinata fascia oraria. Sì, come in altri paesi della provincia di Bergamo e su suggerimento anche di una cospicua parte di genitori che chiedeva all'amministrazione di valutare questa possibilità, abbiamo pensato anche noi di chiudere per 20 minuti dalle 13 alle 13.20 il centro storico per permettere ai nostri bambini e ai nostri ragazzi di rientrare alle proprie abitazioni dopo l'orario scolastico in totale sicurezza. Questo perché il centro storico di Ardesio non ha un marciapiede perché ovviamente per chi lo conosce è un centro storico abbastanza stretto e quindi si è pensato proprio di valutare questa opportunità. Quindi proviamo da lunedì 16 ottobre verso questa strada. Quindi ci sarà un percorso, tra virgolette, che è già quello che i ragazzi fanno. Quindi l'uscita dalla scuola, quindi l'attraversamento pedonale accompagnato dai volontari che aiutano nell'attraversamento, si sale sul marciapiede, altro attraversamento pedonale che porta sul ponterino che è messo al riparo, i ragazzi sono al riparo grazie a quelle sbarre che ci sono sul ponterino per poi mettersi lungo il centro storico. E qui la novità è che non dovrebbero più transitare le macchine, quindi non dovrebbero più salire le macchine e i ragazzi possono rientrare verso le loro abitazioni. Quando si arriva in prossimità del semaforo più o meno, da lì riparte il marciapiede che scende in via Antonio Locatelli, quindi il marciapiede che poi scende verso la parrocchiale. Quindi i ragazzi sono di nuovo in sicurezza anche da quel punto di vista lì. Ci sono poi anche altre novità in questo periodo? Sì, una riguarda la possibilità di sciare quest'inverno presso gli impianti di risalita di Vodalas, piazze di Gromo, con una scontistica particolare dedicata ai residenti di Ardesio. Quindi per tutti i residenti di Ardesio sconto del 25% sul giornaliero o sullo stagionale. Gli stagionali si possono già acquistare da adesso e il giornaliero quando nevicherà che si andrà a sciare si potrà mostrare la carta di identità alla stazione ed usufruire di uno sconto del 25%. E questa è un'altra importante iniziativa e ringraziamo ovviamente anche gli impianti di Gromo per aver sostenuto questa idea dell'amministrazione comunale. L'altra novità è quella invece che fino al 28 febbraio si può fare domanda per l'assegnazione della legna da ardere in collaborazione con il Consorzio Forestale. Quindi basta scrivere al Consorzio Forestale, mandare una mail e richiedere la modulistica per poter partecipare a questa ulteriore importante iniziativa. Per ogni famiglia c'è un quantitativo di 100 quintali di legna da ardere a disposizione.